Un po' sì. Andiamo al bar, dai. Ma lo sa che in questo ristorante fate proprio delle porzioni da finocchi? Come? Ecco, bravo, anche il patrone ha detto come. E lei, complimenti per la torchina di verdure, con lo stesso tono di prima. Ma le sono segnate tutte. Signora, lei non può portare i sandali perché hai dei piedi orribili. Se non piscio subito scoppio. Quando sono stata sfrigginata a 15 anni... No, no, no. Ah, no, allora la perla. Pare che i cazzi dei neri... Pare che i cazzi dei neri non siano affatto più lunghi di quelli dei bianchi, lo sa? Vuoi sapere a chi l'ha detto? No, non lo volevo sapere. Al console senegalese. Vabbè, non lo volevo sapere, ci guardano tutti. Ho scritto tutto perché le ho fatto la promessa di non parlarne mai più. Altrimenti mi lascia, mi ha detto che mi lascia e lo fa, lo so che lo fa. Va bene, dai. Pago dopo? Eh? Sì, pago dopo, dai. Andiamo. Perché è malata, Pietro, è malata. E prima o poi dovrà curarsi. A qual punto tutto quello che ho scritto qua, perché sarà utile. Devo andare perché... Mi promesso di che mangiavamo insieme, eh? Grazie per il consiglio. Non ti ho dato nessun consiglio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.